La Fondazione oggi ha presentato una cartina tematica dedicata al barocco genovese in provincia di Alestandria. Non è solo una cartina, va detto subito, è un'iniziativa che si collega a tante altre cose, progetti, concerti, mostre presenti sul territorio nostro e vuole essere un invito a scoprire un patrimonio culturale importante della nostra provincia, da sempre entroterra e retroterra culturale di Genova e della sua realtà. Sono infatti presenti sulla cartina una cinquantina di luoghi, chiese, oratori, palazzi, in cui pittori e scultori del barocco, chiamati dalle committenze locali, sono venuti nel corso del VI e anche del Settecento a portare il verbo del barocco di Ure. I comuni coinvolti sono più di trenta e quindi questa iniziativa è diventata un'occasione per lavorare insieme tutti i comuni importanti del sud della provincia, insieme a Tortona, gli uffici beni culturali delle diocesi, Alexala, le associazioni musicali che organizzano festival come Alessandria Barocca e non solo e Festival Ecos. Questo insieme di proposte durerà tutto l'anno e la cartina invece ha l'ambizione di durare ancora di più perché contiene delle proposte sempre valide.